Con un aumento di circa il 2% degli ingressi e un bilancio in linea con quello dello scorso anno, nel 2013 il Casinò di Campioni d'Italia ha guadagnato il primato delle case da gioco italiane in termini di giro d'affari. Oggi possiamo dire senza tema di smentite che il Casinò numero uno in Italia, la casa da gioco numero uno in Italia, è quella campionese e questo è comunque un risultato positivo perché la Lida si porta sempre dietro un'immagine vincente, importante per i clienti. In realtà è la migliore campagna pubblicitaria che qualsiasi azienda possa fare, il dire di essere il numero uno. Tra i frequentatori del Casinò si è registrato in particolare l'incremento dei cinesi, L'avvio di una campagna di marketing mirata con la predisposizione di un servizio navetta verso il quartiere milanese Sarpi e l'organizzazione di numerosi eventi dedicati ha fatto sì che il loro numero sia addirittura quintuplicato. Forse il fiore all'occhiello e l'elemento distintivo rispetto ad altri Casinò è stato proprio quello di creare un format televisivo in parte con la più importante rete televisiva cinese dove in sostanza le potenziali modelle cinesi partecipando a un grande evento di selezione a campione potevano veramente cambiare la propria vita. Nel corso di quest'anno il Casinò ha incassato 45 milioni di euro, un risultato importante dopo le perdite degli ultimi esercizi e le incognite dovute al cambio con il franco svizzero più forte dell'euro che proietta la casa da gioco a concludere il suo ottantesimo anniversario verso il pareggio di bilancio. Bisogna dire effettivamente grazie a tutti i dipendenti del Casinò di Campione che si sono tagliati lo stipendio per poter garantire la continuità aziendale e poi ancora bisogna dire un grazie all'amministrazione comunale che tanto si è impegnata per poter garantire questa continuità. Grazie a tutti i dipendenti del Casinò di Campione che si è impegnata per poter garantire la continuità